L'annullo filatelico garantito da poste italiane su Gelle riafferma l'unicità di Varese sul fronte aeronautico consegnando alla storia l'eccellenza della provincia con le ali riassunta nell'MB 326 di Armacchi che torneggia sulla rotonda di Bugugiate. A celebrare l'iniziativa fondendola con la mostra e le altre iniziative organizzate a Villa Ricarcati in occasione dei cent'anni dell'aeronautica due esponenti istituzionali particolarmente interessati al tema. Il velivolo che era figurato sul territorio della provincia di Varese, di Varese diciamo fondamentalmente anche se a Bugugiate è un MB 326, a Gallarate invece un G91. Questo MB 326 negli ultimi giorni è stato riportato un pochettino all'antico per cui l'abbiamo sistemato, l'abbiamo lavato, gli abbiamo messo le nuove serigrafie, quelle che aveva un tempo in attesa di capire effettivamente il comune di Varese perché di proprietà del comune di Varese che cosa ne vorrà fare, potremmo dire, ma siamo sicuri che verrà valorizzato. Per me è un motivo di vante particolare perché io ho una storia aeronautica, io sono un ingegnere aeronautico e sono un tenente dell'aeronautica militare in congedo, in collocamento in congedo, per cui per me è una cosa importante, però credo che sia un simbolo tipico dell'industria aeronautica italiana. Grazie. Grazie. Grazie.